Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto continua sino al 17 settembre la festa dell'unità metropolitana in corso Gorseto, civico 183, sino a venerdì le linee 2, 11, 22, 75, 77, dalle 20 a fine servizio, da Corso Potenza, sovredeviate in via Lucento, via Sospello, via Cardinal Massaia, Corso Gorseto, percorso normale. E veniamo alle notizie di domani, mercoledì 5 settembre, domani avremo controlli velocità in via Pietrocorsa, Corso Potenza, Don Sturzo, Giulio Cesare, via Onorato Vigliani e Corso Venezia. Sino a sabato prosegue la chiusura del controviale di Corso Francia tra il civico 1 bis e il Corso Inghilterra per lavori edili. Domani dalle 9.30 alle 17 7.30 avremo un impianto semaforico in manutenzione con agenti in centro incrocio al Rondò Rivella. Dalle 8.30 di domani alle 19 di dopodomani la linea 30 in Chieri con direzione Chieri da Piazza Gialdo, angolo strada Riva e deviata in via Bugino, Corso Matteotti, strada Padana inferiore, percorso normale. E in direzione Torino da strada Padana inferiore deviata in Corso Matteotti, Corso Buozzi, via Fratelli Giordano, via Le Fiume, percorso normale. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.